Salve a tutti ragazzi, questo è il Vodermelo Channel e faremo una challenge di barzellette con gli assistenti vocali Scusate che sembro Casper, però non so... Se faccio questa voce perché la mia voce fa schifo in registrazione allora sto cercando di farla sentire più profonda così casomai esce una registrazione fatta bene Non sai che dice un'assistente vocale in una chat di assistenti vocali? No? E fai un messaggio audio Andiamo? Sì, allora quindi faremo il pick up of the record vai Allora, faremo parlare gli assistenti vocali tra di loro usando l'ordine di fare una barzelletta alle barzellette noi daremo un voto e procederemo a eliminazione quindi due voti, abbiamo due voti disponibili per ogni manche chi ha più voti negativi viene eliminato finché non ne rimarrà solo uno i partecipanti sono Ok Google, Alexa, Cortana, Ma ci sono io, il tuo assistente Google E Siri Quindi partiamo subito Inizieremo con Cortana Con Cortana? Ok Cortana non c'ha il riconoscimento quindi bisogna... No, bisogna cliccarla Racconta una barzelletta Qual è il colmo per un calciatore che gioca in casa? Scendere in campo con le pantofole Carina, sentita però Vediamo invece come risponde Siri Ehi Siri, racconta una barzelletta Tra barzellette, freddure e colmi Abbiamo l'imbarazzo della scelta Cosa fa la gallina frettolosa? Va dritta al sodo Questo è già di un livello superiore Adesso interpelleremo invece le intelligenze artificiali Con Google Ok Ehi Google, racconta una barzelletta Penso di avere qualcosa che ti piacerà Qual è l'elemento chimico preferito dalle rane? Lo stadio Questa è carina, questa è molto carina E l'ultimo concorrente per questa mancia Alexa Alexa Racconta una barzelletta Una scamorza ha lasciato il suo fidanzato Faceva il provolone con le altre No, Alexa ha vinto Ha vinto Io me ne vado Qua l'abbiamo sentite tutte Il giudice si ritira La mancia è finita Il video è concluso Ok Quindi direi che Alexa è al primo posto in assoluto Si, ha due voti Quindi hanno tutti quanti un punto di penalità tra gli altri assistenti Ok Partiremo subito con la seconda mancia dopo la sigla Eccoci qua Siamo tornati Si Iniziamo subito con la seconda mancia Ok, quindi partiamo con lo stesso turno Cortana Sì, Google e Alexa Racconta una barzelletta Come si chiama il più famoso tuffatore coreano? Se so chi mi ha spinto Ma perché? Allora, devo dire che con questa cortana potrebbe riemergere dai quasi eliminati Se so chi mi ha spinto No Allora, è pessima È pessima, ok Però È qualcosa Parentesi nerd Cortana È stata ispirata alla cortana Intelligenza artificiale che guidava Master Chief in Ilo Chiusa parentesi Passiamo con Siri Torniamo a Siri Ehi, Siri Racconta una barzelletta Ci posso provare Che cosa dice una ragosta che ha fatto un errore? Scusa Ho preso un granchio Beh, sottile Bisogna Non dappertutto si usa il detto ho preso un granchio Quindi No È difficile Sì, non è difficile Ah No L'ho capita No, ma neanche Perché vuole quando ti metti paura Ho preso uno spaghetto Sì, si dice Ho preso uno spaghetto Non ho preso uno spavento Ho preso uno spaghetto Questa cosa è uno spaghetto non la sapevo Se voi la sapete Ditecelo nei commenti Passiamo a Google Prego Ok Google Racconta una barzelletta Certo Eccone una in arrivo per te Un libro dice a un altro Oh caldo Per forza Siamo ad agosto E continui a dormire con la copertina Io lo sapevo come andò a finire Io lo sapevo come andò a finire Google mantiene comunque il suo livello Ed è ancora il mio assistente preferito Per ora Vediamo La prossima concorrente è Alexa Alexa Racconta una barzelletta Cosa prepara una cuoca felice? Il brodo di giuggele Sottile Per me questa mancia l'ha vinta Cortana Onestamente Qual era la battuta di Cortana? Mi sono dimenticato Come si chiama il più famoso tuffatore coreano? Se so chi mi ha spito Se so chi mi ha spito No per me vale Google Quindi un punto a Cortana che rimane a un punto negativo Un punto negativo ad Alexa Dobbiamo segnarcelo però Penna Shoei Non mi faccio pubblicità occulte Passate da Shoei a comprare i caschi Da me il 50% di sconto su tutti i modelli E su uno Shoei è tanto Fidatevi Allora Ok Google un punto Alexa due punti Siri zero Cortana uno Quindi Siri è la seconda manche che non prende punti Viene eliminata Restano Google Alexa e Cortana Vediamo chi vincerà la terza manche Ok perfetto Quindi Cortana Racconta una barzelletta Cosa fanno due tartarughe che si scontrano? Due lenti a contatto No è brutta No Non mi è piaciuta No Non mi è piaciuta Passiamo subito a Google Ok Google Racconta una barzelletta Penso di avere qualcosa che ti piacerà Sai qual è il colmo per un insegnante di italiano? Rimanere senza parole No Infantile però è carina il livello Google mantieni il livello mi piace Il prossimo concorrente è Alexa Racconta una barzelletta Andiamo ad un corso di salsa Chiesa e pomodoro Meglio di merenghe Rispose la meringa Sì Ok va bene No mi è piaciuto di più Google che prende Sì Anche a te? Sì Alexa, Cortana Facciamo due punti a Google dai Due punti a Google Più due Google sale a tre punti Alexa due Cortana uno Ok Se Cortana non prende un punto la prossima Non lo so Zitta Se Cortana questa volta non ha un punto viene eliminata Viene eliminata E via Racconta una barzelletta Dopo l'azione di matematica Pierino dice a un compagno Per me la maestra è una calcolatrice E il compagno Perché? Perché dai numeri? Perché dai numeri? Potrebbe andare bene Vediamo cosa rispondono i due candidati vincitori Passiamo con Google Ok Google Racconta una barzelletta Certo Eccone una in arrivo per te Che ci fa un asino sui binari Deraglia Questa è bellissima Ok No 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 Mi sono ricreduto Il punto va a Google Vediamo Alexa Ultima concorrente Alexa Alexa Racconta una barzelletta Qual è l'animale più dispettoso? Facile E riccio Per ogni riccio un capriccio No No non mi è piaciuto Il mio punto va a Google Sì Quindi? Altri due punti a Google? Sì E Alexa viene Cortana viene eliminata Rimangono Alexa e Google Ok l'ultima manche Per stabilire chi è il vincitore Nella gara di barzellette E quindi se la giudicano Google E Alexa Facciamoli venire in primo piano Il turno di Google Ok Google Racconta una barzelletta Penso di avere qualcosa Che ti piacerà Qual è il contrario di Melodia? Se lo tenga Ragazzi E senza giudicare Passeremo subito Alla Alexa Alexa Racconta una barzelletta Cosa dice un pentolino O un uovo? Veniamo al sodo Hai usato lo stesso finale Per me è stato un punto per Alexa Io ho avuto Sì Anche io Alexa onestamente Anche tu Alexa Quindi più due Tiriamo le somme Google più uno Google più due Google più due Google ha fatto un totale Di cinque punti Alexa più due più due Quattro punti Con quattro punti viene eliminata E il vincitore di questa manche Di barzellette tra intelligenze artificiali E Google Eeeh Corriendo l'esplosione Fuoco Non so se ci riesco Però ci provo Scusa Non ho capito Hai vinto Google Hai vinto Davvero? Sono stato bravo? Sì Sì